Salve e ben ritrovati, ho una nuova puntata di Imarcabili, puntata che arriva alla vigilia della sosta del campionato di Serie B nazionale, campionato di Serie B che lascia spazio nel prossimo fine settimana insieme alla Serie A2 e alla Coppa Italia di LNP, Coppa Italia che si svolgerà a Roma e che andrà in scena di fatto quest'anno in formula compressa con solo quattro squadre di A2 e quattro di Serie B quindi semifinali e finali, non il format un po' degli anni passati ma appunto non ci saranno comunque nostre rappresentanti, anche se ci saranno diversi invece marchigiani comunque di scena ma appunto restiamo sul campionato appunto perché comunque Iesi e Fabriano continuano a fare bene Iesi vince in casa la sua ottava vittoria consecutiva, batte appunto Vicenza, partita che era da vincere diciamo perché comunque l'avversario sicuramente non era dei più ostici a maggior ragione per la Iesi di questo inizio del 2024, è arrivata una vittoria netta anche in questo caso e comunque corroborata dal fatto che comunque Iesi ha ancora anche qualche problema comunque di organico perché Faraskin ancora fuori, Merletto rientrato ma poco più che a mezzo servizio quindi squadra che comunque continua a rispondere presente e è arrivato anche il piccolo regalo perché comunque la sconfitta di San Vendemiano vale l'aggancio al terzo posto per Iesi che continua a scalare la classifica all'assio in alto Quanto sta facendo bene Valentini, Paglia, da un mese e mezzo abbondante a questa parte anche quando c'è fatto male Merletto è entrato in quintetto per fare rima e sta facendo molto molto bene, un po' da guardia, un po' da playmaker ha iniziato il campionato con compiti prettamente difensivi e adesso invece ha trovato anche fiducia, minuti sta facendo anche canestro da fuori che non è proprio la specialità della casa Se ti ricordi Capri quando è venuto da noi ospite ci disse appunto che parlavamo del fatto che lui da giovane fosse anche più scorer e più realizzatore e che si era un po' adattato strada facendo e ora sta ritrovando un po' quella verba lì Assolutamente, sta ritrovando un pochettino anche la verba appunto da realizzatore e questa è una cosa molto importante perché permette a Iesi di superire ai piccoli acciacchi, infortuni, robe varie che stanno avendo e che comunque ancora tengono Iesi assolutamente in cabina di regia e in cabina, scusate, in corsa verso i primi quattro posti quindi sarebbe terza Araschina ancora auto, ha giocato a carnevale l'impatto leggermente inferiore ma comunque sempre solido di quello di domenica scorsa chiaramente questa squadra paglia continua ad essere in un momento di fiducia talmente tanto grande, importante che onestamente non si riesce a vedere il limite di questa squadra chiaramente, secondo me in questo momento cruciale è il ruolo che sta avendo Bruno Bruno mi sembra l'altro giocatore che è proprio salito di colpi tantissimo già all'inizio del campionato ma proprio nell'ultimo, boh, anche qua due mesi circa sta facendo veramente prestazioni importanti canestri, momenti importanti sempre in campo o quasi nei finali insomma, un giocatore veramente imprescindibile anche qui che si è caricato spesso e volentieri gli oneri e gli onori della cabina di regia dello spot di 1 e 2 proprio in assenza dei compagni Berletto e Marulli che hanno avuto vari problemi in realtà sotto canestro la solità di Tiberti ormai non fa più notizia anzi, direi che abbiamo detto un pochettino tutto dei motivi per i quali Iesi sta vincendo comunque una squadra che sì, chiaramente non era del livello di Iesi ma comunque insidiosissima con un giocatore come Bugatti che sta facendo una stagione allucinante, onestamente non me l'aspettavo a questo livello in questo campionato sta facendo veramente molto bene, dimostrando che può essere un giocatore anche di di vertice, di squadra di vertice, di rotazione di squadra di vertice quindi una vittoria convincente con le solite armi di Iesi con la solita qualità di gioco di Iesi tutto come da copione, da programma negli ultimi due mesi Assolutamente, Iesi che comunque stavo ricontrollando con San Bendemiano è uno a uno, ma la differenza canestro premierebbe i Veneti quindi comunque di fatto sarebbe comunque quarto posto però intanto è aggancio a livello di classifica poi vediamo come si mette perché poi se magari Fabriano avesse completato l'impresa a Roseto poi sarebbe arrivato un altro legato sarebbe addirittura stato aggancio al secondo posto si sarebbe creato un gruppetto di fatto alle spalle di Ruvo ma appunto non si è concretizzata quella possibilità comunque Fabriano che esce diciamo tra gli applausi e comunque a testa alta dalla partita di Roseto una partita che ha dato l'impressione di poter vincere per lunghi tratti la Janus, Roseto sicuramente non quella dei giorni migliori alla fine è servito il grande ex che ha tirato fuori un paio di conigli dal cilindro nel finale e Marco Santiangeli che ha firmato tutti i canestri importanti quelli che hanno consentito a Roseto di prendere quel piccolo vantaggio che poi ha gestito un po' fino alla fine diciamo partita che è cambiata negli ultimi due minuti e mezzo del terzo quarto girata completamente Roseto ha tirato su una difesa clamorosa e il giocatore chiave è stato Tamani che ha rimbalzato e ha tenuto botta contro Giombini che per la prima volta non va in doppia cifra da non mi ricordo quando penso no, non ne prende più di 15 addirittura da tre o quattro partite non va incredibile perché? perché Tamani comunque gli ha messo un sacco di precedenti ha pareggiato l'intensità di Jan ed è stato molto importante così come sono state importanti le bombe di Petracca sempre a cavallo di quel momento lì molto importante e poi ovvio che insomma la prova di Santi Angeli nel finale è stata la prova di quello che ci si attenderebbe da lui tutte le domeniche di leadership con Manzaris fuori per una caviglia degli uti minuti per una caviglia ciaccata ha preso in mano anche tra l'altro Manzaris ha un rimbalzo e due assist dalla dribbla doppia non è che sia stato proprio Manzaris in ciabatte sta giocando palesemente in ciabatte ma basta e avanza se ha un'altra marcia da scalare il playoff è complicato io credo ce la possa avere perché con il talento diffuso che ha Roseto non c'è bisogno che lui spinga sempre a mille cosa che invece e questo un po' mi preoccupa per Fabriano sta facendo Simone da tanto tempo Simone sta facendo una stagione incredibile anche domenica migliore in campo ma non esce veramente mai non esce veramente mai perché fa anche il cambio del playmaker come avevamo detto un po' di tempo fa con bandini fuori a maggior ragione con bandini fuori a maggior ragione e non esce veramente mai c'è riposo di 30-40 secondi al minuto difficilmente ci arriva quindi a cavallo magari dei quarti per allungare un po' il riposo però per ora tiene bene perché sta anche fisicamente bene bisogna vedere poi ai playoff come ci arriva non che Fabriano abbia aggiungo su questa cosa Gabri adesso stavo guardando al volo tra i giocatori più utilizzati Antelli è il primo con 35 minuti di media ma è una squadra che infatti è in fascia medio-bassa della classifica Simone Cettani è il secondo con 33,9 minuti alla partita e poi scendendo appena Stanic è il quinto con 31,8 e quello è il grande problema il grande punto di domanda diciamo basterebbe una combo che riuscisse a far riposare 10 minuti a testa chiaramente in questo momento Fabriano non ce l'ha e non ce l'avrà nel senso che non è che possa meno che i bandini non esplodano nella fase finale della stagione ad alti e bassi comunque in generale non è che abbia mai impressionato per costanza un giocatore sicuramente tutto in divenire però da qui essere pronto per giocare 20 minuti come servirebbe a Fabriano ce ne passa partita di Verri rivedibile specie nel finale un paio di scelte di forzature diciamo mezze forzature ma soprattutto quella insomma con Stanic che lo guarda anche un attimo nel finale un po' male come a dirgli che stai a fare però ci sta una seconda partita dal rientro quindi la prima la giochi sempre sui nervi la seconda in poi arriva al difficile però Roseto mi è impressionato per la fisicità che ha è una squadra molto molto fisica più di quello che sembrerebbe a guardare i nomi però è una squadra veramente molto fisica molto intensa sotto canestro è veramente immensa con l'arrivo anche di Tionier sono veramente grossi con l'arrivo di Tionier sono veramente giganteschi però sono anche mobili ti voglio dire perché sono anche mobili poi c'hanno tutti questi giocatori nei mezzi ruoli da Guayana Durante tutti questi giocatori nei mezzi ruoli che ti permettono lo stesso Santi Angeli che può giocare dall'1 al probabilmente 4 insomma è un Negri è un Negri come giocatore se è lì insomma poi stiamo qui a discutere chi sia più forte però è quel tipo di giocatore che può giocare dall'1 al 4 posso schierarmi per Santi Angeli? sì posso schierarmi senza offesa per Matteo che lo conosco è un amico però il talento che ha Marco sicuramente lo avrebbe lo avrebbe potuto portare ad altri livelli ma questo è un altro discorso dovremmo aprire un capitolo a parte però è quel tipo di giocatore lì che può portare palla come ha fatto in finale può giocare da 4 tattico può giocare da 2 può giocare da 3 lontano dalla palla può andare spalle può fare un po' di tutto e questa Roseto molto operaia veramente molto operaia ma quadratissima rispetto alle ultime edizioni e questo l'avevamo già detto un po' di tempo fa rispetto alle ultime edizioni della palacaresta Roseto dove c'era tantissimo forse anche troppo talento paradossalmente adesso aver sostituito Poletti con dei giocatori veramente ancora più operai vedi Tiune e Petracca che sono operai ma nel senso più buono della parola giocatori di sistema quadrati che fanno due o tre cose fatte molto bene permette probabilmente anche a Santiangeli di rivelare un pochettino più sul talento offensivo e onestamente Manzaris fa quello che fa Stani solo che con caratteristiche diverse ovviamente e io credo che ancora abbia un paio di marce da scalare per quello che riguarda Fabriano una prestazione comunque di altissimo livello perché è stata sempre avanti fino ai famosi tre minuti del terzo quarto poi onestamente va dato merito alla difesa di Roseto che ha tirato sul muro e ci sono stati cinque o sei minuti in cui era veramente difficile trovare qualcosa perché Tamari cambiava sui pick tanti aiuti a rotazione dal lato debole una squadra ben organizzata che ha recuperato tanti palloni proprio anche da rotazioni pressione raddoppio eccetera e quindi onestamente vanno dati merito agli avversari però per Fabriano una partita positiva all'interno di un percorso assolutamente positivo il problema per Fabriano è che hanno vinto tutte le altre insomma quindi Fabriano sì che resta quinta in solitaria è andata bene che ha perso anche Sansevero quindi non c'è stato l'aggancio il riaggancio in classifica ma la classifica adesso è cortissima in zona nella lotta playoff dando per assolati ormai le prime quattro che hanno scavato un po' un solco sulle altre però Fabriano è quinta con di fatto due punti soltanto sul nono posto perché poi Sansevero mestre Andrea Costa Simola e Faenza sono tutti a 30 quindi la nona di fatto sarebbe appunto a 4-30 e appena sotto c'è la Virtus Simola a 28 quindi è veramente una selva qua alla fine mancano ricordiamo sei partite si rientra dopo la sosta quindi fra dieci giorni di fatto con tra l'altro tre partite in una settimana perché poi ci sarà a seguire il turno infrasettimanale e Fabriano ha subito una trasferta bella aggressiva perché va sul campo della capolista Ruvo di Puglia l'avevamo detto nella parte finale del calendario di Fabriano un po' in salita innanzitutto le trasferte sul campi delle prime prima e terza perché abbiamo avrà appunto Ruvo adesso e poi chiuderà a San Vendemiano Fabriano e poi a partite in casa Ling che ti devi giocare perché insomma arrivano squadre come mestre come Faenza squadre insomma importanti Iesi invece un po' analogamente in questa fase ha una partita molto delicata rientro fa dieci giorni con la trasferta a Faenza poi ci sarà l'infrasettimanale in casa con la Virtusimola e trasferta a Ravenna è una fase che insomma si può pensare di provare ad allungarlo questo momento super per Iesi ma non è scontato Faenza che è uno dei misteri di questo campionato quelle stagioni in cui semplicemente non ti si infilano non ti si allineano i pianeti che è una metafora abusatissima ma assolutamente funzionale è una squadra che avrebbe il potenziale per spaccare tutto ma non riesce a trovare continuità occhio che però poi magari i playoff queste squadre sono capaci di trovare di trovare continuità e ne parleremo per la Loreto Pesaro nella nella seconda parte insomma quando parleremo di B2 per Fabriano serve servono le vittorie pesanti quelle che però è giusto che ti prendi per meritarti i playoff in questo campionato così competitivo per Iesi serve lo stesso le vittorie quelle che devi fare per forza perché ormai entrare nelle prime quattro deve essere l'obiettivo e io credo che abbiano tutto per poterlo fare quindi stiamo a vedere ma insomma già al prossimo turno parecchio parecchio interlocutorio e scendiamo in Serie B interregionale che ha vissuto appunto la seconda giornata della seconda fase partiamo dal play in gold dove c'è stato il filotto delle nostre 4 su 4 per le marchigiane con le vittorie di appunto Materica Loreto Bramante e Senigallia partiamo da quelle più non direi più roboanti però sicuramente dal cambio di marcia che è stato più impressionante in questa seconda fase che è quello del Loreto Pesaro che dopo la lavata di capo direi subita in casa da Matelica ha proprio veramente svoltato con due vittorie pesantissime contro le prime due dell'altro girone è arrivata domenica scorsa quella contro la Supernova Fiumicino di nuovo netta inequivocabile con autorità che non ha avuto mai nel corso della stagione di fatto il Loreto che infatti non è un caso che si sia presentata dalla seconda fase con soli due punti quindi avendo vinto un solo scontro diretto e invece quello che è mancato fino adesso sembra averlo trovato tutto in un colpo la squadra di Bosch Foglietti sai Paglia ci sta nel senso che è una squadra talmente forte talmente ti devo dire che anche lo straniero sta avendo un impatto migliore di quello che ha avuto Obieque Kingsley Kingsley Obieque da inizio campionato due giocatori chiaramente non comparabili totalmente diversi però Martinez sta avendo l'impatto che ti aspetti da un giocatore che occupa lo slot straniero che comunque deve essere un impatto di produzione non può essere un impatto di equilibrio cosa che dava Obieque che forse era quello un pochettino quello che ci si aspettava e secondo me è stata anche una scelta dettata da fatto che Tognacci è esattamente l'Obieque italiano nel senso che comunque sta giocando da equilibratore di questa squadra un po' nel 3 un po' nel 4 ma anche da playmaker in alcuni momenti e quindi avendo due giocatori che facevano scopa scopa Ligi che è di basket ne capisce e non poco ha fatto questa scelta non facile perché comunque le ragazze stanno facendo bene però per mettere un'altra arma offensiva importante soprattutto con una dimensione diversa Rupil è un tiratore gli altri sono tutti abbastanza tiratori ma Ruka è un altro tiratore e questo è uno che va nord-sud con la moto e quindi una scelta che adesso l'abbiamo capita tutta sta roba qua unita all'esperienza dei giocatori chiari l'abbiamo detto le mecca di questa squadra è Battisti ma l'altro pre mecca è Broglia sono due giocatori che hanno vinto campionati che hanno fatto categorie dalla C alla Serie A vincendole spesso in alcuni casi quindi se tu metti tutte queste robe insieme ecco la roba che tra virgolette è strana è l'impatto di Casoni Casoni sembra Kimo Lagiwon nelle ultime due partite tra l'altro anche con Soluzione che facesse canza da fuori lo sapevamo che ci sta facendo vedere un po' un repertorio completo ed è una squadra lunga paglia talentuosa forte che sembra essersi quadrata proprio dopo la sconfitta di Materica chissà che non ci sia stato anche un confronto tra i giocatori la pressione ce l'hanno sempre avuta però adesso anche il fatto di doverle vincere più o meno tutte secondo me ti aiuta a compattarti perché sai che non puoi sbagliare e approfondiremo il discorso proprio con Kim Casoni che è il nostro ospite questa settimana delle altre come abbiamo detto Senigallia continua invece a confermare il suo grande momento battendo la Virtus Roma a domicilio vittoria un po' più sofferta per Materica in casa contro Palestrina con un Gianmarco Rossi che ha tirato fuori una delle sue partite di quelle che ha ogni 2-3 le tira fuori una da 28 con 6 o 7 triple e l'ha fatta appunto domenica ma appunto Materica è riuscita a domare comunque la Palestrina che era comunque riuscita a battere però il Bramante nella scorsa settimana e Bramante stesso che ha battuto Valdiceppo invece a domicilio e Valdiceppo che sembra un po' l'unica fuori dai giochi diciamo per la corsa ai primi sei posti però sono in sette a correre una sicuramente resta fuori dovendolo dire oggi Gabri forse quella che potrebbe avere mezza tacca in meno sarebbe Palestrina ma visto le prestazioni che sta tirando fuori non mi sembra una squadra rassegnata insomma a molare la presa guarda io credo che chiunque voglia vincere questo campionato debba chiedere il permesso a Senigallia in generale mi sembra la squadra che in un accoppiamento di playoff abbia tutto quello che serve per prendersi lo scalpo di chiunque perché è una squadra che è di una fisicità impressionante specie sugli esterni veramente fisica ma non che abbia lunghi non fisici però quello che a me è sempre piaciuto di Senigallia è la forza con cui passano sui blocchi gli esterni vari brigato Giacomini Neri e compagnia e io credo che anche il ritmo cui gioca Senigallia costringerà molte delle favorite Mattelica Loreto Roma Fiumicino chi volete voi a dover chiedere il permesso a questa Golden Gas perché non credo che sarà un ostacolo così facile per tutti di Mattelica la cosa che mi preoccupa ne parlavo ieri con insomma Civitanova col coach è il fatto che in questo momento non abbia un cambio del playmaker quindi debba strizzare tantissimo Mariani e far giocare Riccio magari in alcuni momenti con palla in mano e che non è proprio quello che sa fare meglio Giampaolo e soprattutto lo vai a togliere dalla cosa che sa fare meglio cioè giocare lontano dalla palla però c'è un però Morgillo è illegale Morgillo è illegale è fortissimo giocatore di categoria nettamente superiore lungo di B1 fatto finito ma non è che serviamo noi per scoprirlo insomma che si sta ormai prendendo il posto di 5 4 5 titolari che ha scapito anche di di qualche minuto di Manu Musci ma era normale che fosse così perché comunque giocano un po' le stesse zone di campo ed è difficile tenere insieme però avercene di sti problemi insomma c'è Musci Morgillo Providenza e compagnia rotazione avercene molto bene Mazzotti che infatti è il è il giocatore chiave il swingman il giocatore che può giocare 3-4 ruoli anche magari 3-4 no però può giocare da 3-4 può giocare più ruoli anche qua e sono quei giocatori che mettono fisicità ti possono marcare più giocatori in difesa e ti danno una dimensione diversa quello che appunto abbiamo detto di Tognacci poco fa non solo lui quello che comunque è appunto neri barra brigato nella Senigallia di turno quello che fanno da Crescenzi a tutti i mecentis tutti quei giocatori che ha Bramante e questa è una cosa che in questa B2 mi sembra veramente veramente importante però a materica strizzare così tanto poi questo paio adesso lo sai mai tu alla fine potrebbe diventare potrebbe diventare un problema insomma però quella è sfiga sfortuna un po' sfiga e un po' lo sappiamo perché comunque l'uscita di Isulina era stata tampona dall'ultimo secondo con l'ingaggio di Matteo Sacchi che appunto ha saltato il crociato e adesso non c'è più tempo per rimpiazzarlo quindi adesso ormai la situazione è assodata bisogna andare a fine stagione così e il problema più che altro sarà nei playoff quando comunque con quattro esterni veri soltanto e Carone che può darti quei cinque minuti di fiato sarà dura in quella fase lì però finché regge insomma il castello però ecco l'equilibrio sicuramente è abbastanza delicato di sicuro ora la classifica si è accorciata tantissimo perché il Bramade è rimasta sola in betta con 12 punti ma dietro ci sono quattro squadre a quota 10 perché Matelica e Senigallia hanno chiuso il gap con Virtus Roma e Fiumicino e tra l'altro mantenendo a distanza di fatto vanificando se vogliamo gli sforzi del Loreto fino ad ora Loreto che però ha preso Palestrina intanto ed oggi sarebbe sesta quindi comunque quello è l'ultimo posto per entrare nei playoff esatto quindi già un primissimo risultato il Loreto lo avrebbe raggiunto e appunto domenica c'è il primo spareggio tra queste due Palestrina Loreto appunto a Balmontone tra le altre partite Supernova Fiumicino Matelica quindi altro scontro diretto tra Big come anche Virtus Roma Bramante Pesaro e Jolly teoricamente favorevole per la Golden Gas Senigallia anche se a Balticeppo non è mai una passeggiata quindi ovvio che l'insidia c'è sempre parlando invece di play in silver continua a consolidarsi Portorei Canadi che passa probabilmente l'esame più difficile di questa seconda fase andando a vincere sul campo della Carver Roma la partitaccia ho provato a vederla un po' a tratti anche perché la diretta era un po' singhiozzante però è una partita come ti aspetti su un campo come quella è una partita difficile che però Portorei Canadi ha presto preso in mano con Gamaso naturalmente al solito dominante e Portorei Canadi che si staglia come la squadra che ha qualcosina in più rispetto a tutte le altre di questo di questo raggruppamento se per vincere i playoff dovranno chiedere permesso a Senigallia prima di chiedere permesso a Senigallia dovranno stare attenti a non scivolare sull'incognita Portorei Canadi perché anche Portorei Canadi magari in una serie è un discorso diverso ma può abbattere chiunque mi sembra una squadra veramente veramente forte lunghissima infinita sono dieci giocatori veri ben amalgamata che sono stati veramente anche bravi a superare anzi ad andare sul mercato quasi meglio di come c'erano andati a settembre nel senso che comunque Montanari e Trentin per non ho già detto più volte per caratteristiche diverse si incastrano veramente bene in questa squadra qua Gamazzo io non so se a Biennale ma mi sa che l'anno prossimo sarà complicato da tenere se non a Biennale secco mi sembra abbastanza destinato a piani superiori e può farlo o almeno a chi voglia vincere il campionato senza mezzi termini a meno che Portorei Canadi non abbia questa ambizione l'anno prossimo probabile non ci vedrai niente di strano e quindi mi sembra sicuramente a questo l'avamo detto la squadra che ne ha di più in questo play in silver dove però se visto e da qui in giù scendiamo mi riaggancio il discorso settimana scorsa o riequilibrarsi dei valori tra Gironi e Gironi F perché come era normale che fosse insomma secondo me ha minuto quasi tutte le squadre in casa e quindi sarà veramente cruciale andarsi a prendere i punti in trasferta per chi ha ambizioni per tutti quindi abbiamo visto Teramo che aveva vinto di 30 settimana scorso è andato a perdere come è normale che fosse trasferte comunque sono lunghe sono anche pesanti perché arrivare a Isernia da sicuro che non è una passeggiata e non lo sarà arrivare a Mondragone di mercoledì sera per fare un esempio e quindi sai ci arrivi in uno stato psicofisico magari diverso e cambia cambia tantissimo quindi se probabilmente il girone nostro e aveva delle punte di eccellenza maggiori di quelle del girone F questo credo sia abbastanza assodato e ha sorpreso un po' anche loro tra l'altro un po' di maretta ai tifosi di Roma insomma che non si aspettavano di prendere di far così difficoltà no per poi giocarsi la reale promozione quindi ma probabilmente non ci aspettavano neanche le varie proprietà del girone però le scuole nostre le prime quattro sono più forti onestamente ne hanno di più invece dal quinto sesto posto in giù c'è una sostanziale parità chi è più bravo andarsi a prendere i punti in trasferta poi dopo metrare enorme vantaggio occhio perché però Virtus Roma ha riabbracciato Giorgi in questo fine settimana e Giorgi è uno che qualche partita anche da 30 l'ha fatto l'anno scorso in Serie B unica quindi occhio se ritorna a pieno regime e invece Fiumicino ha perso Fanti che di fatto è il suo unico playmaker quindi nelle ultime settimane sono alternati Staffieri e Avramov da playmaker e non sono sicuramente non è sicuramente il loro ruolo è un problema simile a quello che stava Endomatelica quindi vediamo poi come si sistemano queste squadre con questi cambiamenti delle ultime settimane nel play in silver da registrare anche la sconfitta del Pisaurum sul campo di Ferentino trasferta di venerdì sera abbastanza complicata per usare un eufemismo ma Pisaurum che comunque l'abbiamo detto resta resta anche di fatto in corsa ancora per quel secondo posto perché ormai Porto Reganati sembra un po' avercelo in mano il primo nel play in silver passando invece alla zona play out l'unico colpo vero l'ha piazzato appunto la Virtus Civitanova andando a vincere sul campo di Sernia e è una vittoria che crea un po' una spaccatura nel senso che Civitanova e L'Aquila sembrano averne un po' di più ed essere non dico al sicuro ma essere già un pezzo avanti diciamo nella volata salvezza ma sotto invece resta ancora ingarbugliatissima e continua a restare impelagata lì anche Roseto che si è sconfitta da Mondragone e si complica un bel po' la vita la squadra la squadra bruzzese anche Ancona è uscita sconfitta da Grotta Ferrata ma se l'ha giocata per lunghi tratti praticamente nell'ultimo quarto è scivolata via un po' la partita per la squadra di Cospedito che anche lei resta in corsa è appunto ancora difficile di stricare questa corsa qua per la salvezza molto complicata perché quando nessuno vuole retrocedere perché ogni domenica va in trincea con l'elmetto le bombe a mano i mitragliatori la baionetta quindi partite anche di insomma difficili da giocare noi abbiamo il Citanò ha fatto una vittoria di cruciale importanza perché in trasferta in primis perché all'overtime in secondo luogo perché ottenuta non giocando la miglior partita dell'anno ecco contro una squadra che io mi sorprendo veramente di come abbia così pochi punti perché secondo me ha talento per averne di più ci sono voluto degli esterni 1, 2, 3 magari manca un po' di fisicità nei lunghi però Idrisu insomma è l'unico forse lungo vero che hanno nel senso che è molto verticale e gli altri sono però dei bei cinghialotti quindi non faccio veramente fatica a capire come come si andranno per me sono meglio di Mondragone però Mondragone ha quella scafatezza data dall'esperienza data dalla insomma da tante battaglie che hanno giocato questi giocatori qua di Napoli su tutti ma non solo stesso Airovic che per quanto è giovane però di partite così nella sua carriera ne ha già affrontate Mondragone che con la vittoria di Roseto rischia di salvarsi in proiezione perché comunque in casa secondo me faranno fatica tutti ad andarci a vincere da loro se mantengono la differenza canestri con Roseto Roseto rischia veramente però ripeto poi è ancora talmente tanto lunga la questione guarda per dirti la stessa Stamura ha fatto una partita molto molto buona ha partita malissima ha approcciato malissimo meno 20 poi sono tornati giocando facendo tanto canestro da fuori più 5 avanti Piccioni ha fatto 2-3 fesserie barra errori di gioventù che hanno permesso agli altri con un Oliva che mi sembra un giocatore abbastanza fuori categoria per quello che riguarda un play-out di B2 di dominare la stanza ha dominato Oliva ad un certo punto ecco se non era Olagimo non era Embiid poco ci manca e di portarla a casa Grottaferrata L'Aquila sono veramente due squadre talentuose forti che sostanzialmente sono andate a una vittoria come Civitanova stessa dal fare il play in silver quindi anche per Civitanova adesso arrivano partite veramente complicate perché Grottaferrata ha talento all'Aquila avanzava facile poi c'è la trasferta di Mondragone quindi nessuno era sicuro in questo momento neanche le prime delle prime della classe e chiudiamo la nostra lunga pagina anzi restiamo in B2 regionale di fatto perché il nostro ospite questa settimana come vi abbiamo già spoilerato è il lungo dell'Aidal Service Pesaro Federico Casoni andiamo ad ascoltarlo e il nostro ospite questa settimana abbiamo il lungo dell'Aidal Service Loreto Pesaro Federico Casoni grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto grazie a voi e ciao buongiorno e allora una Loreto che ha cambiato decisamente marcia in questo avvio di play in gold se quello che vi era mancato diciamo nella regular season è stato proprio eravate mancati spesso nelle partite importanti stavolta avete fatto esattamente il contrario siete partiti con due vittorie rovoanti contro Fiumicino e Virtus Roma cosa è cambiato banalmente? ma allora come dici te giustamente all'inizio dell'anno durante la prima fase abbiamo spesso perso partite molto importanti per i punti che poi ci saremmo portati nella seconda fase e diciamo questo cambio di ritmo e di marcia è stato anche volendo obbligato perché comunque ci presentavamo all'inizio del girone con soli due punti diciamo che era veramente troppo poco per quello che siamo noi per quello che pensiamo di valere e quindi diciamo forse sicuramente questa situazione di spalle al muro secondo me ci ha fatto bene e ha tirato fuori in noi quello che poi si è visto domenica scorsa le linee è più più aggressiva più intensa che gioca più insieme e i risultati insomma si sono visti però sicuramente non abbiamo ancora fatto niente siamo ancora siamo ancora la classifica lo dice che siamo ancora a pari punti con Palestrina adesso abbiamo due scontri diretti con loro molto importanti e bisogna il nostro obiettivo è provare a vincere più partite possibile di queste otto e poi vedere dove siamo ovvio che c'è stato ancora poco tempo per tirare le somme però il punto di svolta è sembrato vedendolo adesso quella sconfitta involata contro Mattelica in casa che appunto sfuggita di mano negli ultimi minuti è stato quello un turning point per voi ma guarda noi abbiamo alla fine della prima fase abbiamo analizzato un po' le sconfitte che avevamo che avevamo fatto e tutte quante compresa l'ultima Mattelica erano state maturate verso la fine gli ultimi possessi e quindi diciamo non è stata proprio un particolare quella partita lì ma in generale appunto ti ho detto la sensazione di essere spalla al muro e di di non valere quello che i pochi punti che ci portavamo dietro e quindi sicuramente è stato un cambio anche di atteggiamento di qualità di allenamenti che poi infatti si è rispecchiato in partita c'è stato sicuramente anzi c'è stato sicuramente il più grande protagonista delle ultime di questo cambio appunto nelle ultime giornate però ci parli più in generale della tua convivenza un po' nel reparto lunghi con Brogliello Lovisotto siete un po' tre lunghi che si che hanno caratteristiche complementari però ce ne parli un po' del giocare un po' con lo sì sicuramente sicuramente e all'inizio dell'anno quando ho firmato qui Lovisotto non lo conoscevo però come conoscevo Giorgio quando stavo a Montecarini che lui stava a Vigevano e mi ricordo ancora i momenti in cui l'ho dovuto marcare era qualcosa di non sapevo veramente cioè che fare proprio che fare perché non gli puoi lasciare niente che comunque sa giocare sa vedere tutti ed è un giocatore veramente incredibile e con Lovisotto ci trovo anche con lui molto bene molto bene perché comunque come dici te siamo abbastanza complementari cioè se mi trovo a giocare a giocare con lui comunque lui è molto grande in area la copre bene e quindi magari posso posso diciamo stare più sulle mie caratteristiche e magari stare più fuori dalla vita dei tre punti con Giorgio invece che magari non non magari tecnicamente non rolla più magari magari prima lo faccia non lo so questo non è stato mai un grano un lato e quando vedo che lui rimane sul perimetro magari sono io che provo a stare in area e a diciamo a completare l'assetto dei lunghi insomma ecco tornando al discorso del del girone di questo playing gold appunto la classifica si è accorciata tantissimo appunto complice la risalita vostra ma anche quella di eh Matelica e Senigalli appunto il girone molto molto equilibrato sembra tu che idea ti sei fatto di questo di questo gironcino che andrà poi a decidere il campionato diciamo beh allora i risultati diciamo parlano abbastanza chiaro questo questo giro delle marche almeno nelle prime quattro posizioni si sta rivelando eh di livello già non magari non di livello superiore ma sicuramente giocato in un modo diverso che le romane le squadre romane stanno soffrendo e non non abituate magari a ritmi di allenamento più intensi che vengono fatti appunto nelle marche che anche io conosco molti giocatori del di Virtustromo e Fiumicino e so che la maggior parte non lo fa di lavoro non fa lo fa come dopo lavoro e quello secondo me soprattutto da adesso in poi si vedrà veramente tanto e infatti i risultati dicono questo squadre come Senigallia e noi che hanno ritmo abbastanza alto stanno stanno creando molti problemi a squadre appunto come Virtustromo a Fiumicino che sono composte da giocatori molto forti Fiumicino cioè a 10 giocatori veramente forti di livello che però non allenandosi lo so perché io là ho giocato e so come si fa col basket a Roma e questo è veramente penalizzante perché poi quando ti vai appunto a confrontare con altre regioni vedi le differenze e magari che ne so la Virtustroma di turno che aveva perso due partite in tutta la prima fase credeva di avere una squadra mentre invece adesso si ritrova subito con le prime due partite a perdere tutte e due quindi c'è sicuramente questo questo diverso modo di intendere la palla canessa questo è un bel assist per te no Gabri? Sì infatti io credo ho parlato insomma che probabilmente la questione promozione è una questione interna alle marche a questo punto da quello che si è visto in queste due prime due prime partite poi magari verremo smentiti non lo so in ottica playoff probabilmente non avrete il seed più alto perché chiaramente partirete da una situazione un pochettino di punteggi portati dietro un po' più bassa pensi che sia un problema non avere magari la bella in casa? Ma guarda allora parlo parlo di noi perché noi abbiamo una situazione di tipo un po' particolare perché è come se giocassimo a porte chiuse mi sembra quasi di essere ritornato agli anni dell'anno del covid che non c'è nessuno e pensavo che andando a Roma la prima partita con la Vittus Roma dove gioca in un palazzetto in un pallone minuscolo in cui 150 persone sembrano sembrano il triplo pensavo che l'avremmo accusata e invece devo dire che quanti abbiamo giocato meglio in campi più caldi dove e quindi quasi sempre fuori casa e quindi non credo che questo questo peserà molto sul risultato finale ma sia per noi che per altre secondo me peserà il giusto insomma c'è un accoppiamento che vi può mettere secondo te in difficoltà cioè o perlomeno quello che ritieni possa essere l'accoppiamento peggiore ecco con quale squadra vi accoppiate un po' meno bene l'accoppiamento peggiore per noi può essere in Gallia secondo me che è un po' peggiore secondo me è un po' peggiore per tutti sì sì perché conosco Gabrielli conosco i tatticismi le cose quindi so che è molto bravo a mettere in difficoltà anche squadre molto molto bene attrezzate e lo so sulla mia pelle perché l'anno scorso stavo a Teramo con lui e siamo riusciti a fare belle imprese insomma a vincere con squadre clamorosamente più forti di noi quindi sì temo temo sindicale perché poi è composta pure da giocatori forti di livello e appunto che poi appunto combaciano con un allenatore che insomma mette in difficoltà le squadre avversarie non le fa giocare bene per quello che riguarda invece te il tuo sviluppo come giocatore c'è qualcuno che hai preso magari a modello o qualche giocatore compagno allenatore che ti ha magari un po' influenzato nella tua crescita nel tuo sviluppo di giocatore sicuramente dai giocatori ho sempre provato a prendere il meglio i primi anni in cui magari mi allenavo solo con le prime squadre sono sempre stato uno che ha cercato di rubare qualcosa pari ruolo e capire come facevano le cose se devo pensare all'allenatore in particolare è stato Barsotti a Montecatini che mi ha cambiato proprio il modo di vedere la pallacanestro di di approcciarmi alla pallacanestro sia fuori che dentro dal campo una mentalità che che mi sto portando avanti e che e che mi aiuta che mi aiuta sia dal punto di vista proprio tecnico nei momenti in cui scendo in campo mi ha iniziato a prima non è che fossi non che fossi uno scarso difensore però insomma non è che mi mi piacesse più di tanto invece con lui ho iniziato a come dicevo lui a godere della difesa e e benedici come giocatori l'ho l'ho sentito l'ho visto dunque l'obiettivo dichiarato è chiaramente provare insomma a vincere il campionato pensi che questa scuola qua possa già essere quasi fatta per un eventuale salto in B1 ma guarda un pochino l'ho seguito durante che sono la B1 e mi è sembrato un campionato ovviamente di altissimo livello e ma guarda io sono per per le conferme di cioè se dovessi cioè le squadre che salgono per me se hanno la possibilità dovrebbero confermare il più possibile e perché comunque per creare continuità e poi non so perché Loretto Pesaro non so dove sarebbe sarebbe messo nelle squadre partigiane sarebbero messe nel giro rest che onestamente conosco di meno però sicuramente ci sono squadre so che ci sono squadre fortissime e quindi magari non te lo so dire non te lo so dire se si riconferma cioè capito se riconfermerai tutti quanti una parte non so come si comporterebbero onestamente come ci comporteremmo quindi non ti saprei dire Paglio Federico Casoni quest'anno prima esperienza nelle marche ma appunto originario di Roma settore giovanile vis Roma se non sbaglio e poi appunto diverse esperienze tra Serie C Gold e Serie B e appunto tu sei originario hai iniziato insomma ti sei approcciato dal mondo senior con la Visnova una delle tantissime realtà romane realtà romana che un po' dopo dopo che sparì dalla Virtus non si è più ritrovata una guida diciamo di tutto il movimento si è un po' polverizzato se non sbaglio tutto l'ambiente gestistico ce ne parli un po' della Roma del basket insomma perché veramente vista da fuori sembra una un marasma totale praticamente sì sì no è così visto da fuori visto da dentro anche uguale sono cresciuto con con la grande Virtus Roma negli anni 2005 2006 2007 gli anni delle finali con Siena e mi ricordo quando andavo al palazzetto al palazzo dello sport un palazzo gigantesco riempito sempre ogni domenica era uno spettacolo incredibile con giocatori di altissimo livello e poi poi sì ci sono stati gli anni diciamo sempre di Serie A della Virtus Roma ma diciamo con diverse ambizioni poi le prime difficoltà gli anni non so quanti ne hanno fatto in A2 e poi il 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 fallimento insomma e poi sì come dici di te non c'è stata nessuna squadra che ha che ha riportato in alto il basket romano l'unica è stata la Luvis che è sempre stata in Serie B ha sempre fatto campionati buoni di buon livello e poi combinati con l'anno scorso con la vittoria del campionato però sì per il resto non c'è neanche un'amministrazione che aiuti questa la pallacanestra di sollevarsi c'è stato il palazzetto adesso dove gioca la Luvis che è stato chiuso per tantissimo tempo cioè tutto completamente in degrado e non è bello non è bello perché una città come Roma non può non può avere come prima squadra adesso anzi che c'è una 2 una squadra di Anna 2 ma mi sembra che una Serie A mi sembra sia il minimo per una città come Roma ecco e appunto come dicevamo per te la prima volta quest'anno nelle Marche a Loreto ma se non sbaglio tu hai anche origini marchigiane quindi ti vedremo più stabilmente nelle Marche in futuro sì io ho i parenti da parte di mio nonno paterno che sono di Matelica infatti quando abbiamo giocato a Matelica sono venuto a vedermi e e sì io qua adesso erano qualche anno che non venivo perché con la palacanestro chiaramente è sempre difficile spostarsi però però si sono cresciuto andando tutti gli anni tutte le stati con i miei genitori a Matelica a Pioraco quelle zone là le conosco bene insomma e ci torno sempre molto volentieri quindi ringrazio Federico e in bocca al lupo per il vostro rush finale insomma grazie grazie buona giornata buon proseguimento a volte buon lavoro ciao ed era Federico Casoni lungo dell'Oreto Pesaro diamo uno sguardo ora alla serie C serie C dove neanche dirlo comanda sempre le canati che supera di slancio anche lo scoglio San Marino ma diciamo resta tutto completamente aperto di sotto perché ogni settimana sia nella zona playoff che nella zona salvezza succede veramente tutto il contrario di tutto forse il anzi senza il forse il risultato più importante in chiave salvezza è stata la vittoria all'ennesima tra l'altro di Tolentino che sembra decisamente rilanciata in questa fase una vittoria netta contro Iesi vittoria che più più che rilanciare Tolentino che comunque resta sempre in bilico ricordiamo che le retrocessioni sono tre più che altro potrebbe essere quasi una condanna per la Taurus laggiù in fondo Taurus che è a meno 4 dalla penultima piazza che ora è occupata da Falconara peraltro Tolentino scavalca la scavalca Falconara e con 6 partite da giocare insomma il tempo adesso abbiamo parlato sempre di campionato infinito lunghissimo però adesso inizia inizia anche a mancare per la Taurus in zona playoff l'abbiamo detto sta succedendo tutto il contrario di tutto ed è diventata una lotta in cui sono veramente coinvolte fondamentalmente quasi tutte nella corsa almeno al sesto settimo ottavo posto sta risalendo fortissimo Perugia che ha tirato fuori un'altra vittoria stavolta sul campo della Bartoli Mechanics Bartoli Mechanics che invece al contrario non è sicuramente nel suo miglior momento riparte Montemarciano con la vittoria di Foligno abbiamo parlato anche della vittoria di Gualdo a Porto Sant'Elpidio con l'eroe della settimana Elia Rossi di cui abbiamo lanciato una vetrina nazionale in questi giorni ma insomma veramente è ancora difficile di stricarsi laggi in fondo la certezza ce l'abbiamo e non la ripetiamo più No il risultato di Montemarciano è interessante perché dimostra come se Montemarciano non difendi forte sugli esterni vincono contro chiunque primo squillo di Araugio da inizio campionato mi permetto a dire era ora diciamo che credo abbia risolto i propri problemi fisici e abbiamo dimostrato di essere un giocatore assolutamente determinante per la categoria ne parlavamo sempre ieri se potesse essere un giocatore di B2 onestamente non lo so però probabilmente la struttura la taglia ce l'ha ce l'ha pure una vittoria molto molto importante perché a Montemarciano si piazza a gancio al secondo posto in una classifica che dal secondo posto in giù resta piuttosto corta dove ognuno perde punti dove succede sempre qualcosa tipo che Patani faccia 38 in una partita e non credo che e però sbagli la dribbler per pareggiarla per pareggiare la palla canesta è veramente uno sport uno sport veramente veramente strano Perugia sta in un buonissimo momento a differenza di Sant'Empidio che ha anche qualche problema fisico in allenamento insomma numerico ti parlo qualche acciacco e poi dopo si vede la domenica chiaramente però sono quei periodi che onestamente capitano nel corso di una stagione lotta salvezza ancora aperta finché matematica non condanna Taurus però comunque ancora aperta Tolentino ha fatto discretamente ha vinto le partite che doveva vincere adesso arrivano quelle un po' più complicate per cui sarà difficile confermare questo trend però intanto ha vinto quelle che doveva vincere che sono quelle fondamentali per evitare intanto l'ultimo posto ai play out sarà una battaglia complicatissima perché se vai a prendere la Sutor di turno è complicata se vai a prendere Gualdo chiunque dovesse rimanere fuori è dura è durissima specie perché vedo proprio la la nona nona decima che comunque sono quelle che poi accoppierebbero con Taurus e Falcone con Taurus Tolentino e Falcone una di queste tre averne di più dal punto di vista fisico tecnico però sappiamo che i play out subentrano altri fattori subentrano l'esperienza subentrano i ritmi bassi subentrano la preparazione tantissime altre cose no Paglia quindi ancora tutto abbastanza abbastanza da decidere insomma anche Gualdo la vittoria rubò ante in quel di Sant'Epidio non tanto per la vittoria quanto per le dimensioni appunto sfruttando un momento di difficoltà di appannamento evidente di Sant'Epidio che deve difendere però quell'ottavo posto play off perché comunque sono in tante a volerlo prendere la classifica banalmente si accorge eh sì si va dai 32 punti del quarto posto di San Marino al al dodicesimo posto a quota 24 di Assisi o Basket Giovani quindi veramente difficile anche fare tabelle da qua alla fine della regular season magari quelle le faremo quando mancheranno un paio due o tre giornate per vedere appunto se si sarà sgranata questa situazione che resta appunto super super ingarbugliata noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Imarcabili se ci state guardando siamo su FM TV al canale 75 del digitale terrestre o su YouTube al nostro canale Imarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast è su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita ogni settimana sulle sue piattaforme l'appuntamento invece con noi appunto per la prossima di settimana sempre qua su Imarcabili Pierini il tiro e il canestro di Attilio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area